Si volta pagina, resta la delusione di un ultimo giorno di mercato che non ha riservato particolari sorprese. L'organico del Barletta con quattro difensori per i tre posti del pacchettore tratto e tre soli attaccanti di ruolo sembra essere incompleto. Gli uomini però erano e resteranno quelli attuali. Per il momento infatti la società ha dichiarato di non voler pescare dal mercato degli svincolati. I pensieri e le preoccupazioni di dirigenza, staff tecnico e calciatori dunque vanno solo al campo che torna protagonista nel fine settimana. La prima trasferta di campionato di Biancorossi è quella in programma domani sera a fischio d'inizio previsto alle 20.30 al del Duca di Ascoli contro la formazione marchigiana chiamata a riscattare la retrocessione della passata stagione e la sconfitta all'esordio sul campo del Frosinone. Ha cominciato con una battuta d'arresto questo campionato anche il Barletta che sul piano della prestazione però non ha affatto demeritato contro il Pisa. Ai punti avrebbe meritato almeno il pari ma nel calcio si sa contano solo i gol. Ecco perché era lecito attendersi un rinforzo per il reparto avanzato nell'ultimo giorno della sessione estiva del mercato. Orlandi che pur non essendo uno dei protagonisti del campo e forse il vero valore aggiunto di questa squadra ha provato nell'amichevole di giovedì contro gli allievi nazionali biancorossi alcune soluzioni alternative ad esempio ha impiegato Delrico sulla corsia sinistra e poi ha riproposto nel secondo tempo del test in famiglia quel 3-4-3 visto all'opera già nella parte finale del match contro i Toscani quando il Barletta in pratica è stato chiamato a rimontare il gol dello svantaggio. Con ogni probabilità però il modulo di partenza contro l'Ascoli sarà sempre il 3-5-2 che specie in trasferta offre maggiori garanzie. Ed è il sistema di gioco che ha permesso ai biancorossi di ottenere la salvezza nello scorso campionato di prima divisione con un sontuoso rush finale. I tre di difesa saranno gli stessi del match con il Pisa vale a dire Romeo, Camilleri e Di Bella che giocheranno davanti a Liverani. A centrocampo resta in dubbio Capitano Elegretti che ha svolto lavoro differenziato in settimana nel tandem d'attacco. Infine Lamantia e Picci si contendono una maglia l'altra sarà ancora di Cicerelli.